A San Marcello è stato inaugurato l'ufficio di prossimità. Gli uffici di prossimità rientrano nei progetti pilota regionali e sono destinati a servire gli abitanti e i professionisti di tutta la Toscana. Oggi consegniamo ai cittadini un nuovo servizio che è sostenuto dalla Regione Toscana con la collaborazione del Sistema della Giustizia che si chiama ufficio di prossimità. L'obiettivo è quello di dare servizi nell'ambito della cosiddetta ordinaria giurisdizione cioè quelle pratiche che non hanno bisogno dell'assistenza di un legale. Pratiche semplici ma spesso molto nerose per i cittadini e l'intendimento è quello di appoggiare questi servizi su una rete di prossimità che si incardina sulle amministrazioni comunali prevalentemente nel caso di specie sull'Unione dei Comuni che sia a disposizione dei cittadini in una logica di diffusione di questi servizi sul territorio. Ne abbiamo aperti oltre 20 siamo prossimi con questo a raggiungere la trentina di nuovi uffici. L'ufficio di prossimità sono una risposta a una necessità che i territori hanno espresso e che il Ministero di Grazia e Giustizia ha messo a disposizione delle Regioni. La Regione Toscana lo ha fatto in maniera convinta, strutturata e il percorso che anche oggi facciamo sui territori va in questa direzione riavvicinare il sistema della giustizia alle nostre comunità. Si tratta di una serie di qualità di servizi che possono servire sia alle persone sia dai legali per il deposito degli atti e per un'altra serie di attività. Quindi davvero grazie all'amministrazione comunale che si è messa a disposizione e che ci ha dato l'opportunità di essere qua stamani a inaugurare questo nuovo ufficio.